Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Come notiamo dalla carta, il caldo africano è stabile sul Mediterraneo e lo sarà probabilmente ancora per diversi giorni. Ormai, dopo aver trascorso più di metà di quest'estate a contatto con diverse ondate di caldo eccezionale, possiamo tranquillamente affermare che l'estate 2017 certo non passerà inosservata agli occhi delle medie stagionali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per lunedì 31 luglio. Mattinata caratterizzata da cieli completamente sgombri da nubi. Nel pomeriggio i cieli rimarranno sereni su gran parte delle regioni. Debole nuvolosità sparsa potrà interessare le zone di montagna del Potentino. Serata calda e stellata ovunque. Temperature molto elevate, sia durante la notte con minime di 25-27 gradi, specie lungo le coste, e sia durante il giorno, con valori massimi di 36-38 gradi nelle zone più interne del Tavoliere, Materano e Leccese. Venti deboli di direzione settentrionale, con maggiori rinforzi sulle aree interne e sul Salento. E per quanto riguarda i mari, poco mosso all'Adriatico, calmo invece lo Ionio. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Vito Ludovico per questo incantevole panorama sulla gravina grande di Castellaneta. Le gravine sono molto diffuse sul territorio murgiano e rappresentano delle profonde incisioni nella generosa roccia calcarea prodotte dall'azione di scavo delle acque meteoriche e delle acque di ruscellamento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovra impressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.